È una strage senza fine quella che riguarda le donne uccise. Il 2021 non ha ancora visto finire il mese di febbraio, ma sono già tre le vittime che l'Emilia Romagna piange. È ancora fitto il mistero intorno al decesso di Ilenia Fabri, trovata morta per strangolamento nella sua casa a Faenza, così come sono ancora in corso le indagini sul decesso della carpigiana Claudia Lepore, chiusa dopo un efferrato omicidio dentro al frigorifero della sua abitazione a Santo Domingo. È attesa per i prossimi giorni l'autopsia sul corpo rientrato a Modena lo scorso sabato. È stato invece fermato questa notte il convivente di Rossella Placati, l'ultima vittima in ordine di tempo. Di nuovo si tratta di un delitto avvenuto tra le mura domestiche della donna. Ieri a Bondeno, Rossella, operaio di un'azienda di Mirandola, è stata ritrovata a riversa terra con la testa fracassata da un oggetto contundente. Il fermo è scattato per Saveri Doriano, bolognesi di 45 anni. Nel corso dell'interrogatorio avrebbe fornito una versione dei fatti contraddittori e lacunosa a cui si contrapporrebbero una serie di gravi indizi di reato a suo carico. E mentre proseguono le indagini di accertamenti dei carabinieri, dalla nostra provincia arriva il profondo cordoglio di chi conosceva Rossella, operaia da anni della Emotronic e delegata della Filctem CGL modenese. Una donna sensibile, una donna impegnata politicamente e culturalmente, una donna che dal punto di vista sindacale si è fatta carico e si faceva carico delle istanze, delle persone, delle lavoratrici, dei lavoratori e aveva sempre una parola per tutti e provava a portare a sintesi le istanze degli ultimi, a trovare una soluzione anche quotidiana alle istanze degli ultimi. E questo credo che sia il quadro, l'immagine che meglio la dipinge. Una donna per gli altri, il solare sempre disponibile. Quale vuoto lascia anche a Modena, ammirandola in particolare? Sicuramente lascia un vuoto importante tra tutti quelli che la conoscevano, tra noi che la frequentavamo, ma tra gli stessi colleghi di lavoro, non ho dubbi di interpretare il parere di tutti i colleghi di lavoro rispetto a questo, per come si approcciava dal punto di vista umano. Ieri c'era una dichiarazione dell'azienda che anche dal punto di vista lavorativo ne dava un'immagine reale, d'altronde, di donna prima e lavoratrice poi impeccabile rispetto ai comportamenti e agli usi.